Nella ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con la questura illuminata di arancione in segno di partecipazione all'iniziativa Orange the World, sostenuta da Soroptimist International, impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, Gli agenti della squadra mobile di Ascoli hanno arrestato un 45enne del posto, ipotizzando nei suoi confronti i gravi reati di stalking, sequestro di persona, minaccia, violenza privata continuata ed anche revenge porn nei confronti della trentenne, con cui aveva, dallo scorso mese di marzo, iniziato una frequentazione. Le attenzioni dell'uomo, le sue premure ed un'apparente serietà avevano persuaso la donna a tentare una convivenza con lui. Per i primi tempi tutto sembrava andar bene, ma lei ignorava che questa persona, purtroppo, era già stata denunciata in passato per violenza domestica e stalking. Inoltre, a causa della sua attuale pericolosità sociale, risultava anche essere stata sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ben presto, la donna, madre di una bambina minorenne, si è accorta di aver commesso un grave errore, considerato che il suo compagno iniziava ad avere, nei suoi confronti, atteggiamenti violenti e minacciosi, esternando, tra l'altro, una non comune gelosia. In un'occasione era persino giunto a minacciare di diffondere alcuni video che la ritraevano in atteggiamenti intimi con lui. La donna, profondamente terrorizzata, temendo anche per la sua incolumità fisica, si è rivolta alla polizia, facendo così scattare le indagini. Immediatamente, la trentenne è stata trasferita in una località protetta fuori provincia. Contemporaneamente, gli investigatori hanno iniziato a monitorare con discrezione l'uomo, per evitare che potesse perseverare nella commissione di ulteriori reati o creare situazioni di pericolo. Gli elementi accuratamente raccolti consentivano così alla Procura della Repubblica di chiedere l'applicazione a carico dell'uomo della misura cautelare. Tale richiesta è stata accolta dal CIP e l'uomo è stato arrestato.